Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida relativa a Ant-Man. Tutto quello che dovete fare praticamente è di saltare sui suoi giocattoli, cioè o meglio, sui giocattoli del cane. La dimora di Ant-Man è questa. La trovate qua praticamente. Qui, vedete? C'è anche il tettuccio rosso, quindi vicino proprio siepi d'agrifoglio. Non potete sbagliarvi perché la vedete già in lontananza. Tutto quello che dovete fare quindi è saltare sui giocattoli del cane. Adesso vi mostro quali sono e dove sono ovviamente. Sono quasi arrivato. Eccomi qua. Allora, i giocattoli in questione sono la pallina che si trova qui, quindi dovete saltare sulla pallina. L'osso qui, poi entrate dentro la cuccia e saltate qui. Scendete giù e saltate qui. E poi, sotto qui, troverete altri giocattoli. L'osso e questa pallina. E la sfida è completata. Grazie. Grazie.